Tutto era definito per il passaggio di Simone Tonelli al Cesena. L'accordo tra Forlì e Bianconeri sembrava totale, tanto che il centrocampista poteva dirsi già abile e arruolato per la trasferta di domenica a Villa San Filippo, la sfida contro il Monte Giorgio. Una formalità che aveva spinto anche il presidente del Cesena, Corrado Augusto Patrignani, a sbilanciarsi sulla buona riuscita dell'operazione nel corso dell'ultima puntata di Pianeta Bianconero. Sì, saranno già con noi da domani i Tonelli, i due 2.000 Munari e Mantovani, chi potrà giocare fin da subito sarà Tonelli. Proprio queste dichiarazioni hanno invece fatto irrigidire il Forlì. Dalle pagine del Corriere di Romagna è così arrivato l'attacco del presidente Gianfranco Cappelli. L'annuncio non ci è affatto piaciuto, Tonelli è e resta un giocatore del Forlì. E chi lo vuole dovrà passare da noi. Parole che segnano una chiusura quasi definitiva, visto che ora la scelta che il Galletto dovrà operare sarà quella di inserire Tonelli in lista di svincolo, rendendo così praticabile il suo ingaggio solo a metà dicembre. O mantenerlo in rosa, anche se quest'ultima ipotesi sarebbe la più deleteria, visto che l'ex giocatore di Sant'Arcangelo e Vicenza ha fatto chiaramente intendere di volere cambiare un Cesena che adesso dovrebbe orientarsi su altri obiettivi di mercato, primo fra tutti quel TIL Mavretic che il DS Pelliccioni conosce bene, avendolo avuto nella precedente esperienza al Monopoli.